Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Attirate in Italia con la promessa di un lavoro sicuro, di una vita diversa, di un futuro migliore. Arrivano dalla Nigeria, principalmente da Benin City, con tanti sogni in tasca. A raccontar loro di un paese meraviglioso quale l'Italia, sono ragazze che proprio dalla Nigeria sono arrivate nelle Marche e in Abruzzo. Pian piano guadagnano la fiducia delle malcapitate, le fanno arrivare in Italia e qui le avviano, nella maniera più brutale possibile, tra botte e stupri, al mestiere più antico del mondo. Dovranno ripagarsi un debito originale, le spese sostenute per il loro viaggio. Dovranno stare in strada per giorni sotto la supervisione di una mamman. Se non rispetteranno le regole, riti voodoo saranno compiuti contro di loro e metteranno a rischio la vita dei loro cari in patria. Più di 2.000 le persone emerse dal circuito antitratta nel 2022, di queste l'80% sono sfruttate nella prostituzione. A livello locale, nella regione Abruzzo, siamo attivi attraverso dei progetti che sono finalizzati all'emersione delle vittime e si portano avanti attraverso il primo contatto che viene fatto in strada, proprio nei luoghi della prostituzione, attraverso le unità mobili, le unità di contatto, che quindi proponendosi come attività di supporto sociosanitario e quindi riduzione del danno e distribuzione di preservativi e comunque anche proposte di accompagnamento sociosanitario a visite mediche e screening sanitari riescono a fare un primo contatto con le ragazze che sono in strada e successivamente si propongono per le ragazze che decidono di aderire al programma dei percorsi di fuoriuscita, per cui c'è l'accoglienza in case di fuga, in caso di pericolosità, qualora gli sfruttatori siano effettivamente una presenza pericolosa e case di seconda accoglienza in cui le persone vengono poi inserite per attivare dei programmi di reinserimento sociale e lavorativo. Un inferno dal quale però possono uscire grazie alla cooperativa On The Road. Il 20% di queste ragazze, che badiamo bene, non sono tutte nigeriane, riesce a cambiare vita, ma c'è ancora un 80% che non ce la fa a uscire dal gioco della prostituzione da strada o da appartamento. Compito degli operatori è avvicinarle con la cosiddetta unità di strada a bordo di un'auto e cercare di fare almeno prevenzione sanitaria. I numeri di cui parliamo riguardano un numero di persone intercettate in strada che si aggira tra le 300 e le 400 persone e in prevalenza operiamo sulla strada bonifica, quindi a ridosso della città di Martinsicuro e nella città di Pescara, nella città metropolitana di Pescara, dove chiaramente ci sono molti quartieri ad elevata densità di marginalità estrema e quindi anche prostituzione in strada.